Se ancora non hanno fatto un film su Bill Ackman, i motivi sono due. Primo, non è ancora abbastanza vecchio. Ha una certa età, ma in realtà è ancora piuttosto giovane se consideriamo il mondo in cui si trova, cioè quello degli hedge fund. E quindi nei prossimi anni potremo ancora avere una storia o due in più da raccontare sul suo conto. E il secondo? Beh, come si dice, la realtà supera la fantasia. Non c'è bisogno di fare un film su Bill Ackman, perché è lo stesso Bill Ackman ad aver fatto nella sua attività di investimento un film. C'è forse un terzo motivo, se ancora non abbiamo visto un film sulle sue peripezie finanziarie. E il motivo semplicemente potrebbe essere Ma chi è sto Bill Ackman? Per alcuni è il nuovo Warren Buffett. Per altri, una sua brutta copia. In realtà negli Stati Uniti è già abbastanza noto, anche perché il nostro Bill è uno che non ci pensa due volte quando c'è da parlare. E sa anche bene come far parlare di sé. Bill Ackman in realtà sarebbe un personaggio scomodo per qualsiasi sceneggiatore. Di lui si possono raccontare molti successi, ma anche diverse sconfitte e tante controversie. E come se non bastasse, ad un certo punto nella sua storia entra in scena un elemento che nelle mani di un buon narratore sarebbe una bomba, cioè una Nemesi. Un rivale, sulla carta molto più grande di lui, più ricco e più esperto. E poi ci sono gli affari di Bill Ackman, i suoi deal, che sono sempre molto particolari. È pur sempre un manager di un hedge fund speculativo, ma è comunque un investitore diciamo atipico, out of the box, fuori dagli schemi. Tanto per dire, se doveste mai incontrarlo, non ditegli mai assolutamente che voi diversificate i vostri investimenti. Scherzo, però lui non lo fa. Basta dare un'occhiata al portafoglio del suo hedge fund, Pershing Square. 10 miliardi di asset under management in appena 7 società. E per questo motivo, e per il fatto che è un hedge fund, il valore del suo portafoglio varia di mese in mese. E può capitare anche con certa frequenza che lo stesso Ackman decida di liquidare del tutto alcune partecipazioni. Così. Comunque, stando ai dati più recenti, posso anche dirvi quali sono le società con cui investe. Tanto non ci metterò molto. I dati degli hedge fund in America sono pubblici. Anche se chiaramente le aziende variano di mese in mese, quindi quello che vi dico adesso non sarà valido fra qualche mese o fra qualche tempo. Comunque, a quanto pare a giudicare dal suo portafoglio, Ackman ha un'ossessione con i fast food. Infatti, il 20% è composta da 2,1 miliardi di dollari in Vesed in Cipotle, una catena di fast food messicana che io adoro, tra l'altro. Poi, in passato, ha avuto anche partecipazioni in Starbucks, Domino's, Wendy's, e ha anche 1,9 miliardi investiti in Restaurant Brands International, una holding che controlla altri brand, tra cui Burger King. Nel suo portafoglio compaiono anche altre 5 partecipazioni, tutte attorno al miliardo ciascuna. Abbiamo la catena alberghiera Hilton, la Canadian Pacific Railways, la holding immobiliare Howard Hughes, e poi Google, o meglio Alphabet, suddivisa in due classi di azioni, l'Alphabet A e l'Alphabet C. E a proposito di società quotate in borsa, esiste un software che ti dice qual è il valore intrinseco di tutte le azioni del mondo, e ti permette di scovare le migliori azioni su tutte le borse. Si chiama Forecaster Terminal, ed oltre a essere lo sponsor di questo video, è un software che ti permette di analizzare qualsiasi strumento finanziario. Nel Forecaster trovi analisi fondamentale per le azioni, con la possibilità di vedere quali sono le più sottovalutate, la stagionalità che ti permette di vedere in media, in un determinato periodo, se uno strumento finanziario è salito o è sceso. Così saprai se gli squali di Wall Street sono posizionati long o short, su materie prime o su indici vari. Insomma, se per passione o per lavoro siete in borsa, provate gratuitamente il Forecaster Terminal sul sito www.forecaster.biz. Se poi dovesse piacervi, potete avere uno sconto del 10% su ogni abbonamento con il codice che vi lascio in descrizione. E a proposito, se avete un consulente che si occupa dei vostri investimenti, fategli conoscere il Forecaster, vi ringrazierà a vita. Bene, torniamo al video. Quindi, ricapitolando, nel portafoglio di Hackman ci sono solamente queste sette società. Ma nonostante ciò, con lui non ci si annoia mai. Deve infatti la sua notorietà ad alcune mosse piuttosto audaci e molto dibattute. Non sempre andate come sperava. C'è chi vede in alcune sue imprese passate il tentativo di portare davanti alla giustizia compagnie da lui ritenute fraudolente, ma non prima di averne fatto crollare le azioni in borsa dopo averci scommesso contro. E c'è chi invece pensa che sia semplice e pura speculazione finanziaria, per questo motivo. Insomma, dovreste averlo capito, non siamo di fronte a un personaggio ordinario. Pure per gli standard di Wall Street. Quando parliamo dei grandi, della finanza, molto spesso ci troviamo di fronte a figure venute dall'al basso. Self-made men partiti dal nulla e diventati milionari o miliardari. Ecco, con Bill Hackman dimentichiamoci pure questo cliché perché non è vero. Nasce nel 1966, poco fuori New York, in una cittadina che sembra un intercalare milanese. Ciappacqua. In realtà è un posto abbastanza alto locato. Tanto per dire, ci vivono i coniugi Clinton. E infatti la famiglia Hackman è ricca. Il padre Lawrence è a capo di una società finanziaria attiva nel settore immobiliare, piuttosto importante. È quel tipo di ricco che deve tutto al duro lavoro e all'istruzione. Non certo al privilegio. Suo figlio Bill quindi va ad Harvard, ma si laurea nel 1988 in una materia che ha poco a che fare con le attività di famiglia. Scienze sociali. Che oddio, se vuoi bazzicare a Wall Street un po' di sociologia di certo non fa male, però non è l'indirizzo più popolare. Ed è per questo che poi nel 1992 arriva anche il classico Master of Business Administration. Sempre ad Harvard. Ora il giovane Bill è pronto a fare soldi a palate. In realtà un po' ne ha già fatti. Con una mossa degna del suo idolo, Warren Buffett. Infatti il giovane Bill ha da parte un po' dei risparmi, 40.000 dollari. Forse di finanza ancora non ci capisce tutto perfettamente. Ma c'è un settore in cui è abbastanza ferrato. Il settore immobiliare. Al tempo c'era questo fondo di investimento immobiliare, Alex Sanders, che dalle parti di New York controllava decine di negozi e grandi magazzini. Con gli anni 90 però le cose si erano messe male. Banca rotta. Il valore delle azioni era sceso a 8 dollari. Ed è in questo momento che Bill Hackman decide di comprarle. Come diceva proprio Warren Buffett, il prezzo è quello che paghi, il valore è quello che ottieni. E Bill Hackman sa che i negozi Alexander valgono molto di più di quegli 8 dollari. Infatti poco dopo il titolo risalirà. E Bill rivenderà le azioni a 21 dollari. Un giochino che poi più avanti sfrutterà ancora e ancora. All'università ha un amico con cui condivide queste avventure. David Berkowitz. I due si divertono dopo le lezioni a studiare i mercati ed investire piccole somme in azioni. Però Bill vuole portare la cosa ad un livello superiore. E chiede all'amico di fondare una società di investimento a tutti gli effetti. Perché non farci pagare per fare per gli altri ciò che stiamo già facendo con successo per noi stessi. Berkowitz gli risponde. Sai Bill, non è che devi essere per forza vecchio per avere ragione. Era un sì. E nel 1992 nasce il loro hedge fund. Gotham Partners. La tattica di investimento è quella già messa in atto con i negozi Alexander. Value Investing. Piccoli investimenti in compagnie sottovalutate dal mercato. Spesso compagnie in difficoltà, ma ritenute di valore. Per cui Hackman studia dettagliatamente il business e la struttura. E infatti l'edge fund batura subito profitti importanti. E quindi altri milioni in arrivo. Bill però non si è contenta di mettere a segno i colpi vincenti a guadagnare. Vorrebbe essere proprio lui stesso a determinare l'aumento del valore di una società in cui ha investito. Insomma, vorrebbe essere lui a controllare direttamente alla fonte i propri guadagni. In altre parole, vuole diventare quello che in finanza si chiama azionista attivista. E non significa che si incatene in autostrada per protestare. Non quell'attivista. In realtà un azionista attivista è qualcuno che accumula a suon di azioni grandi partecipazioni in una società. E dopo che l'ha fatto, sfrutta la sua grande posizione per avere impatto sulle scelte dell'azienda. Nel caso di Bill Hackman, le società in cui decide di investire sono sottovalutate dai mercati. Ovvero le loro azioni costano poco. Sia perché magari non se la passano bene e gli investitori se ne vanno. Sia perché il mercato semplicemente non riconosce il valore. E quindi è qua che inizia il vero gioco dell'azionista attivista. Fare in modo che le azioni aumentino di valore con scelte strategiche. Ogni azionista spera che l'azienda in cui investito salga di valore. La differenza qua è il come. Se infatti hai una grande partecipazione in un'azienda, a differenza del piccolo investitore, puoi sfruttare la quantità della tua partecipazione per influire le scelte strategiche. Puoi fare infatti pressioni sul management della società e anche sugli altri azionisti. Puoi farlo anche pubblicamente tramite dichiarazioni ai media. E dire, sapete cosa? La società dovrebbe proprio cambiare SEO. Vendere quel ramo poco produttivo. O fare quest'altra scelta. Da un lato influenzi il consiglio di amministrazione a fare effettivamente queste scelte. E dall'altro influenzi l'opinione pubblica che magari può tornare a avere più fiducia nell'azienda. Se le cose vanno bene come previsto, le azioni allora risalgono e l'investitore attivista vende con profitto. C'è un problema però. A quel punto per l'investitore di prima non importa più se la società andrà bene o male. Inoltre spesso la vendita improvvisa di tutte quelle azioni da parte dell'attivista riabbassano il prezzo creando un effetto domino per cui generalmente il prezzo delle azioni tornerà a scendere. E per questo spesso l'investitore attivista viene criticato perché magari spinge il management in delle scelte strategiche che sono dannose sul lungo termine ma magari aumentano il valore della società nel breve termine. Chiaramente questa attività è molto rischiosa. Basta un passo falso per avere un'accusa di insider trading, manipolazione e condotta fraudolenta. Ma Bill Huckman non ha il pelo sullo stomaco. L'ho fatto più volte ed è anche per questo che non gli piace diversificare. Deve sempre avere il controllo della situazione nelle sue partecipate. Se avesse centinaia di aziende nel suo portafoglio sarebbe un problema. Invece quello che fa lui è mettere per bene il suo team a studiare una decina al massimo di società per trovare le condizioni di agire in anticipo. In meno aziende investo più alto sarà il capitale che posso investire e quindi più grossa sarà la mia partecipazione e quindi la mia influenza. Che per un investitore attivista come Bill è tutto. Bene, succede però che a inizio anni 2000 la Gotham Partners chiude. Fino al 1998 era andato tutto bene. Tanto che l'asset gestito da Huckman e Berkowitz era salito a 500 milioni. Huckman si era fatto un nome nel 95 quando neanche trentenne aveva fatto aggomitate con gente del calibro di Sam Zell e David Rockefeller. Nel tentativo di acquisire il fondo di investimento immobiliare proprietario del Rockefeller Center a New York. Sapete dove mettono l'albero di Natale. Una trattativa complessa che Huckman non era riuscito a mandare in porto ma da cui aveva guadagnato rispetto di Wall Street e di molti azionisti. Però successivamente alcuni investimenti sbagliati hanno spinto molti i suoi investitori ad abbandonare il suo hedge fund. E Huckman è stato costretto a liquidare i suoi asset per ripagare gli investitori. Ed è proprio in questo tentativo di raccimolare liquidità nel 2003 che incrocia i propri milioni con quelli di Carl Icahn. Altro tipetto particolare. Trent'anni più anziano di Huckman, quindi diciamo un po' più old school, e il classico corporate raider anni 70-80 alla Gordon Gekko. Se da un lato abbiamo Warren Buffett, dall'altro c'è Carl Icahn. Quindi Huckman aveva in asset una società che voleva liquidare. La Hollywood Realty. Una società di investimento immobiliare. Problema, le azioni valgono 60 dollari. La secondo Huckman è sottovalutata. Allora propone un accordo di vendita a Carl Icahn. Anche lui infatti ritiene che sia sottovalutata. Gliela compra pagando 80 dollari ad azione. Ma nel contratto c'è una clausola. Se entro tre anni Carl Icahn rivende le azioni facendo un profitto del 10% minimo, ad Huckman deve dare la metà del profitto. In effetti la Hollywood Realty era davvero sottovalutata, visto che nel 2004 viene poi rilevata ad un altro fondo per 136 dollari ad azione. A quel punto Huckman, felicissimo, telefona ad Icahn per complimentarsi e per chiedere la sua metà del profitto. Questa storia per almeno sette anni è stata raccontata come una barzelletta dalle parti di Wall Street. E non si capirà mai del tutto come andarono le cose. Fatto sta che Icahn non volle mai pagare. Secondo Huckman, infatti, Icahn avrebbe dovuto dargli 4,5 milioni più interessi, che per uno come Icahn ai tempi erano noccioline. Ma per Huckman servivano invece per ripagare i suoi ex investitori. Ma qui non si trattava più dei soldi. C'era in ballo l'orgoglio del vecchio squalo e l'ambizione del giovane che aveva osato sfidarlo. Non sono in molti infatti a potersi vantare di aver sottratto soldi a un tipo come Carl Icahn. Comunque per anni volarono insulti tra i due, pubblici e privati, e alla fine un tribunale diede ragione ad Huckman. Ma non era ancora finita. Gli anni spensierati della Gotham sono alle spalle. Nel 2004 Huckman fonda quello che è il suo attuale hedge fund, Pershing Square Capital Management. I primi 54 milioni ce li mette lui, di tasca sua. Sono anni in cui Bill Huckman si fa vedere spesso in tv e sui media. Fa parte della sua strategia attivista, dopo tutto. Come strategia sceglie investimenti concentrati e non diversificati, focalizzandosi su quelle compagnie che hanno un'esposizione sul settore immobiliare. Quindi grandi magazzini come JCPenney, ma soprattutto fast food come Wendy's. Le cose vanno bene? Sì, tanto che nel giro di dieci anni l'asset under management di Pershing Square salirà a 10 miliardi. Il problema però di avere investimenti così concentrati è che se uno dei tuoi dieci investimenti da un miliardo dovesse andare male, il colpo lo senti a come. E infatti proprio con JCPenney dopo un po' le cose vanno male. Huckman era arrivato ad avere il 18% della società, ma poi litiga perché vuole cambiare SEO. Morale? Le azioni comprate a 22 dollari scendono a 12 dollari. Una perdita che per la Pershing Square è di circa 350 milioni. E che succede quando ti ritrovi in una situazione come questa? Succede che Bill Huckman deve tirare fuori il coniglio dal cappello. Una soluzione creativa che alla fine riesce a trovare. Noi tutti sappiamo che quando compriamo un'azione, la compriamo con lo scopo che questo aumenti di valore. Però sappiamo anche che possiamo fare l'opposto. Cioè scommettere che quest'azione perda di valore. Cioè possiamo investire a ribasso. Questo è quello che ha fatto Bill Huckman nel 2012, scommettendo contro Herbalife, un'azienda che si occupa di beveroni e integratori. Probabilmente una decina di anni fa tutti noi avevamo quell'amico che ci proponeva di continuo di comprare gli integratori e le proteine di Herbalife. Infatti il modello di Herbalife è un modello multilevel marketing. Un modello composto da singoli rivenditori indipendenti che sono molto incentivati non solo a vendere agli integratori, ma a trovare e assoldare ancora più venditori indipendenti. E quindi compravi gli scatoloni da decine di prodotti e poi cercavi di rivenderli agli amici del calcetto, non per farli usare, ma per farli rivendere ulteriormente. Infatti il multilevel marketing ha tanti punti in comune con la versione illegale, cioè gli schemi piramidali. Uno schema piramidale è illegale, il multilevel marketing è legale, hanno alcuni elementi in comune, ma non tutti. Ne abbiamo parlato anche nei nostri video sulle truffe finanziarie. Quello che pensava Huckman era che in fondo in fondo Herbalife non fosse un semplice multilevel marketing, ma che fosse in realtà un vero e proprio schema piramidale. E quindi truffava le persone, convincendole a comprare un sacco di integratori, indebitarsi, provare a venderli senza riuscirci. In particolare criticava il fatto che venissero targettizzate comunità a rischio, povere, in difficoltà delle varie città americane. I rivenditori non guadagnavano vendendo integratori e clienti come speravano, ma rigirandoli direttamente nuovi rivenditori, insomma. E qui nella fine rimaneva sempre qualcuno col cerino in mano. Almeno questo era quello che sosteneva Huckman. Ed è per questo motivo che a un certo punto Huckman decide di fare un mega investimento allo scoperto, cioè un investimento a ribasso, una scommessa a ribasso contro Herbalife. Su come funziona lo scoperto ci abbiamo fatto un video a riguardo, quindi guardatelo, è molto interessante. Ma fondamentalmente più l'azienda decresce di valore, più io guadagno. Se invece l'azienda cresce di valore, io perdo soldi. Il problema è che l'azienda al massimo arriva a zero, mentre può crescere fino all'infinito, quindi io posso perdere infiniti soldi. Quindi è un po' più rischioso. Bene, in quanto investitore attivista, Bill Huckman lo dice lui stesso, subito. Palesa il fatto che ha fatto un investimento allo scoperto contro Herbalife. Non solo annuncia di aver venduto allo scoperto un miliardo di azioni Herbalife, ma diffonde tutti i dettagli sulla sua indagine. Un'indagine che andava a vedere i modi con cui Herbalife reclutava ispanici a basso reddito, di come pochi guadagnavano sulle spalle di molti, e spera che la sua indagine attiri l'attenzione del governo o che convinca gli azionisti a vendere le azioni e quindi far scendere il prezzo. Immaginate se Herbalife fosse stata condannata, le azioni sarebbero scese a zero, e quindi lui avrebbe conegnato un sacco di soldi. Quello che succede è che effettivamente le azioni iniziano a crollare, nel mezzo di una battaglia mediatica tra Huckman e dirigenti di Herbalife. Questa però per Huckman non è una storia alle tue fine. Infatti ha dovuto pagare un costo carissimo per tutto ciò. In quel momento tutti sanno, anche i nemici di Bill Huckman, che se le azioni di Herbalife salgono, Huckman potrebbe perdere per intero il suo miliardo. E quindi, tempo a qualche mese, le azioni ricominciano a salire. C'è molta domanda sul titolo e qualcuno se ne sta comprando in massa. Questo qualcuno è Carl Icahn, ormai nemico giurato di Bill Huckman, che gli vuole rompere le scatole, e dice di essere un fan di Herbalife, e di usare i suoi prodotti anti-età, e che quindi muore dalla voglia di rovinare il suo vecchio rivale. Comprando azioni Herbalife fa salire il suo prezzo, facendo perdere soldi a Bill Huckman. La storia andrà avanti per anni, tra campagne mediatiche, pressioni di Huckman sul governo contro Herbalife, un tiro e molla borsistico in cui Icahn è costretto a comprare azioni ogni volta che Huckman parla pubblicamente del titolo, facendolo scendere. E a quel punto è lo stesso Icahn che deve tutelare il suo investimento. Alla fine però, tanto rumore per nulla. Il governo federale multò Herbalife, senza però riconoscerne il modello piramidale. E quindi a quel punto le azioni non crollarono, perché l'azienda si era dimostrata solida e non illegale. Huckman dovette ammettere la sconfitta e chiuse le posizioni perdendo un mare di soldi. In generale gli anni 2012-2018 per la Pershing Square di Huckman non andarono molto bene. Sono gli anni in cui Huckman è al centro dello scandalo della Valent Pharmaceuticals. Accusata di aver gonfiato di oltre il 200%, il prezzo di alcuni farmaci salva vita. Compagnia in cui Huckman ha investito tanto, ma il valore delle azioni crollò. Crolla dopo che Huckman e i dirigenti dell'azienda vengono convocati ad un'audizione del congresso. E così anche qua perde un sacco di soldi. In quegli anni le cose non vanno bene e Huckman tiene un basso profilo almeno fino al 2020, quando si distingue per una calorata intervista televisiva in cui profetizzava cupi scenari per l'America sotto i colpi del Covid. Tutti però pensarono subito, non è che sta ritentando il giochino ribassista, convincendo tutti a disinvestire e guadagnando le sue investimenti allo scoperto? Infatti sì, saltò fuori che aveva diverse vendite allo scoperto che avevano fatto guadagnare alla Pershing ben 2,6 miliardi di dollari. Però pare che Huckman abbia giurato di aver smesso con la vendita allo scoperto alcuni trucchetti ribassisti. Sostiene di essere umilmente tornato alle origini chiudendosi nel suo ufficio a studiare il business di quelle poche società in cui investire. Un bagno di umiltà che a quanto pare ha pagato perché il 2023 ha visto un guadagno del fondo di Pershing di 3,5 miliardi. Una performance che lo harà inserito nella classifica dei 20 migliori hedge fund al mondo dopo esservi uscito 8 anni prima nel 2015. Secondo LHC Investments, dalla fondazione nel 2004 i guadagni complessivi del fondo sarebbero 18,8 miliardi. Dormiremo tutti i sogni più tranquilli sapendo di un fondo Pershing in salute e di un Huckman sempre più ricco. Patrimonio, secondo Forbes, da 9,3 miliardi di dollari. Al momento il 156esimo uomo più ricco del mondo. Fossi lui in realtà tutti questi rischi non li prenderei più. Abbiamo detto che per alcuni Bill Huckman sarebbe il nuovo Warren Buffett e almeno a fine primi anni 2000 sembrava veramente così. Ma chissà se forse con gli anni Bill Huckman non abbia finito per assomigliare di più all'odiato Carl Icahn. Bill Huckman non rilascia tantissime interviste sulla sua vita però ne ha fatta una molto lunga e dedicata con Lex Friedman in cui ha raccontato tutti gli alti e bassi della sua carriera e tante volte è stato sull'orlo di fallire. Per cui vi consiglio se vi è interessato questa storia di ascoltarvi anche l'intervista che dura due ore e passa. È molto interessante. Se questa storia vi è piaciuta mi raccomando iscrivetevi al canale perché ce ne saranno altre commentate qua in descrizione con quello che ne pensate e ci vediamo con i prossimi video. E mi raccomando vai a provare il software Forecaster se sei interessato alla borsa e agli investimenti. Trovi il link in descrizione. Se questo video ti è piaciuto segui il canale di Investiamo lascia un like anche su Instagram seguici ci vediamo al prossimo video